Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Nuova uscita di sicurezza allo stadio Mancini di Fano restauri d'urgenza negli impianti sportivi della città Spiagge a lavoro per la nuova stagione balneare la bandiera blu che non sventola, nido e arzilla non preoccupa gli operatori Il terreno di un privato blocca la pista ciclabile Fano Finile ma il sindaco annuncia che proseguirà ugualmente Al Codma di Rosciano un corso di formazione per la protezione civile materiale e mezzi per gestire un campo di sfollati in caso di emergenza Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con la partita che si disputerà domenica allo stadio Mancini fra l'Alma Juventus Fano e la Fermana perché in caso di promozione in Lega Pro appunto nello stadio comunale verranno installati sia un impianto di videosorveglianza ma anche dei seggiolini numerati Il comune di Fano mette sul piatto 55 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria in impianti sportivi sul fronte della sicurezza Le strutture interessate sono lo stadio Mancini dove a seguito degli incidenti avvenuti durante l'incontro con la San Benedettese sarà creata una seconda uscita di sicurezza nel settore ospiti di fronte agli spogliatoi per far defluire meglio ed in maniera separata il pubblico a fine gara La palestra di Cucurano e la palestra della Trave dove è stato apportato già il primo intervento e che mostrava eloquenti segni nelle parti esterne di ciò che l'acqua e il suo mancato deflusso possono creare al cemento con conseguente pericolo di caduta calcinacci C'era dell'intonaco cadente e poi il ferro che si era arrugginito gli abbiamo dato dei prodotti speciali e poi ricostruivamo tutti i pilastri quindi poi c'erano praticamente i pluviali intasati abbiamo liberato tutta la rete fognante della palestra in modo di allontanare l'acqua dalla palestra L'altra urgenza è la scuola di Cucurano la palestra di Cucurano che è frequentata dall'Olimpia Ginnastica Cucurano che aveva un problema di uscita e di sicurezza quindi anche lì un intervento importante soprattutto per la sicurezza dei ragazzi State pensando anche ad alcuni interventi allo stadio Mancini? Sì, abbiamo una nota del prefetto successivamente agli episodi con la San Benedettese che ci hanno dato delle prescrizioni che sicuramente attueremo urgentemente e poi stiamo incrociando questi lavori che sono delle piccole migliorie con l'eventualità di una promozione Lega Pro che da una prima valutazione fatta con la società sportiva con il presidente Gabellini non sono lavori enormi sono lavori che riguardano soprattutto il posizionamento di seggiolini perché tutti i posti devono essere numerati e un nuovo impianto di filodiffusione perché attualmente non si sente molto bene quando vengono lanciati dei messaggi allo stadio e un impianto di videosorveglianza di alta definizione quindi queste le cose più urgenti qualora il Fano dovesse salire Lega Pro Anche se per il sole bisognerà attendere visto che per questo fine settimana è previsto il maltempo gli operatori balneari sono al lavoro per preparare al meglio le spiagge fanesi Non tutti gli ombrelloni sono già issati ma gli stabilimenti balneari di Fano sono quasi pronti per la stagione estiva infatti da diverse settimane sono cominciati i lavori nelle spiagge e gli appassionati della tintarella hanno iniziato ad usufruire dei lettini tra le attività pronte ci sono i bar che offrono musica e aperitivi e alcuni campetti per le attività sportive Saremo prossimi all'apertura tendenzialmente il weekend del 22 di maggio e dopo poi dipende anche dal tempo perché le previsioni da qui al 22 di maggio non è che siano meravigliose e se piove sempre i lavori non possono andare avanti perché tanto non è che si può lavorare con la pioggia oddio si può anche lavorare con la pioggia ma non è il massimo Non in tutti gli stabilimenti però sventola la bandiera blu il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale che premia la qualità delle acque di bagnazione ma anche il turismo sostenibile l'attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche L'ufficio turismo infatti non ha inoltrato le domande per le spiagge del Lido e dell'Arzilla limitrofe alla foce del torrente e quindi non potranno freggiarsi del vessillo blu nonostante i valori ambientali siano rientrati nella norma Anche l'anno scorso non ce l'avevamo la zona del Lido ma è una cosa il fatto della bandiera blu il discorso da fare è anche che due anni fa ci sono stati problemi con l'Arzilla per cui abbiamo avuto il divieto di bagnazione per un periodo seppur breve di cosa e abbiamo una fedina penale sporca per cui anche se adesso teoricamente l'acqua è pulitissima perché pare che abbiamo fatto i lavori là all'Arzilla per quattro anni noi non possiamo avere la bandiera blu per via del problema che abbiamo avuto due anni fa questo vi ha provocato danni o comunque insomma la clientela e gli affizionati non mancano sinceramente questo non lo so dire non lo posso dire non posso sapere chi non è venuto appositamente perché non c'era la bandiera blu o cosa gli affizionati ci sono sempre anche perché tanto un fanese vuoi che non vuoi la situazione al di là di bandiera blu o meno la conosce uno che viene dall'esterno dal fuori sa che a fanno c'è la bandiera blu dopo magari non sa nemmeno che al Lido non c'è o alla Sassonia c'è per cui è tutta relativa la cosa insomma ecco tutto qua la bandiera blu ormai è qualche anno che non ce l'abbiamo però non ci provoca più danni più di tanto perché secondo me gli ultimi anni abbiamo lavorato molto con i turisti dal nord Europa olandesi, tedeschi, belgi e va bene dai speriamo che arrivi solo la bella stagione e sole oltre alle belle giornate però sia gli operatori balneari sia i residenti sperano che l'amministrazione comunale intervenga il prima possibile per la manutenzione del verde pubblico c'è da dire che due giorni fa è stata rimossa la sporcizia che c'era qui sotto il ponticello che collega Lido e Arzilla un punto in cui non c'erano solo rami secchi ma anche immondizia varia come cartacce, bottiglie di vetro e plastica in quest'altro lato invece ci sarebbe molto da fare hanno commentato le persone che hanno fermato la nostra troupe e che hanno definito l'area una vera savana con tanto di nutre oggi l'assessore Cristian Fanesi ci ha confermato che i fondi necessari sono già stati stanziati e che a breve verrà eseguito l'intervento fra qualche giorno inoltre inizierà lo sfalcio della vegetazione anche lungo le piste ciclabili Fano-Arzilla e Fano-Pesaro un'operazione a costo zero grazie ad una collaborazione fra il comune di Fano il consorzio di bonifica e che permetterà di mettere in sicurezza il percorso molto utilizzato dai cittadini e a proposito di piste ciclabili adesso ci occupiamo di quella che collega la zona trave a Fenile perché ieri il sindaco di Fano Massimo Seri ha detto che sia breve non si risolverà il contenzioso con il proprietario di un terreno praticamente vicino al cavalcavia dove ora i lavori sono bloccati il comune comunque completerà l'opera abbiamo parlato della pista ciclabile Fano-Trave-Fenile spiegando anche che con la luce di nuove piste ciclabili che arriveranno con quelle della Interquartieri e con quella dell'Arzilla ci sarà una capacità di andare in sicurezza dai quartieri di Sant'Orso dai quartieri di Fenile fino al mare e questa è una bella risposta anche rispetto al passato ovviamente non abbiamo affrontato anche il problema del tratto che non si sta realizzando perché lì c'è un contenzioso è quello che riguarda il ponte e lì ci siamo assunti una responsabilità io e il Presidente della provincia che ringrazio che se non troviamo una mediazione in questo periodo in cui i lavori stanno procedendo ci assurremmo la responsabilità di andare avanti comunque perché non mi potrei mai permettere che per causa di un pezzo sul ponte non realizzato potesse succedere un incidente qualcosa lo avrei sulla coscienza allora preferisco assumermi una responsabilità in più andare avanti e dare una risposta ai cittadini e penso che i cittadini apprezzino il coraggio anche di scelte di questo tipo nel momento che si assumono delle responsabilità bisogna farlo anche assumendosi qualche rischio ma quando lo si fa per fin di bene della gente io penso sia sempre una bella cosa E adesso una breve di cronaca i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti questa mattina intorno alle 8 all'azienda Profiglas nell'area industriale di Bellocchi a Fano dove un sacco che conteneva polveri di alluminio prodotte dal processo di combustione nei forni si era surriscalato ma senza prendere fuoco probabilmente conteneva del materiale incandescente all'arrivo dei pompieri alcuni operai dell'azienda avevano già provveduto a mettere in sicurezza il sacco posizionato all'esterno di un capannone cambiamo argomento il sindaco di Pergola Francesco Baldelli si è recato a Roma insieme al sindacato medici italiani dove davanti a Montecitorio ha manifestato contro la chiusura della guardia medica notturna la prossima mossa del governo ha detto il primo cittadino sarà quella di tagliare servizio di guardia medica di continuità assistenziale dalle 24 alle ore 8 è ormai chiaro a tutti prosegue Baldelli come questo governo che vede a suo fianco la regione Marche stia procedendo in grande fretta lo smantellamento della sanità pubblica spalancando le porte ai guadagni delle società private cancellando il diritto alla salute dei cittadini garantito dalla carta costituzionale tutto ciò ha concluso il sindaco sta accadendo con il silenzio e la complicità di molti amministratori che ubbidiscono agli ordini di partito anziché difendere i propri cittadini e a proposito di sanità vi facciamo vedere queste foto foto che ritraggono Ivan Cottini l'ex modello affetto da sclerosi multipla che oggi prima di sottoporsi ad una risonanza magnetica all'ospedale di Fano ha voluto scattare queste immagini con un foglio con su scritto Santa Croce è vitale per tutti noi no all'ospedale unico cambiamo argomento per evitare incidenti di percorso al circuito Marconi di Fano verrà installata un'apposita segnaletica per indicare ai podisti di tenere il senso di marcia opposto a quello dei ciclisti pedoni e ciclisti spesso vanno a braccetto nelle città e utilizzano di sovente le medesime corsie preferenziali essendo loro una mobilità green per eccellenza ma non sempre due ruote e passeggiatori convivono senza rischi è il caso del circuito ciclistico Marconi a Fano che vede la promiscuità di atleti e pedoni o runner che si allenano contemporaneamente percorrendo il circuito nello stesso senso di marcia cosa che in passato ha creato qualche turbativa agli uni e agli altri con il rischio per entrambi di farsi male perché loro magari non si rendono conto che arrivano il ciclista da dietro magari scartano un po' verso il centro della pista e poi può succedere qualcosa insomma quindi questo cambio di senso di marcia del pedone può venire incontro anche a voi ciclisti che li vedete sì noi li vediamo loro vedono a noi arrivare quindi magari tengono più la loro mano e insomma ognuno cammina sulla mano sua e può essere più semplice insomma ora il comune interviene invertendo il senso di marcia dei pedoni da orario ad anti-orario di modo che chi percorre a piedi il circuito ha modo di scorgere per tempo i ciclisti c'è una difficoltà di convivenza soprattutto il martedì giovedì e sabato quando ci sono i piccoli ciclisti dell'Alma Juventus che hanno tutto il diritto di fare gli allenamenti del ciclismo perché questo è un impianto ciclistico e attueremo una sperimentazione con i podisti che correranno in senso inverso dei ciclisti quindi diciamo convenzionalmente se tutti avete corso in un senso al circuito Marconi si cambierà il verso quindi anti-orario se potete vedere attualmente ci sono delle persone che camminano con il vecchio regolamento appena avremo l'installazione della nuova segnaletica il pedone andrà in senso opposto ricordiamo a tutti un'attenzione di stare all'interno della riga gialla questa è la più grande la cosa più importante le regole di base sono sempre comunque valide mai oltrepassare la linea gialla e di vieto di accesso nei giorni di allenamento dell'Alma dalle 15 alle 19.30 a passeggini pattini monopattini e skate pena una multa dai 25 ai 500 euro alcuni vigili urbani di Fano ma anche della provincia di Pizzaro e Urbino hanno aderito allo sciopero nazionale organizzato dal sindacato delle polizie locali questa mattina i lavoratori si sono recati a Roma sfilando per le strade della capitale armati di fischietti e striscioni i motivi della protesta sono diversi gli agenti chiedono più garanzie e tutele per la categoria e di equiparare il loro contratto a quello della polizia di stato lunedì 30 maggio invece è stato proclamato uno sciopero generale del servizio igiene ambientale Aset Spa non sarà in grado di garantire la presenza di tutti gli operatori quindi chiede la collaborazione dei cittadini a riportare il rifiuto in casa qualora non venga ritirato entro la serata saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali sono arrivati da tutta Italia volontari della protezione civile che al Codma di Rosciano stanno seguendo un corso di formazione per gestire un campo di sfollati in caso di emergenza guardate siamo al Codma di Rosciano dove per quattro giorni volontari della protezione civile provenienti da tutta Italia si allenano per un training camp a gestire naturalmente il montaggio di tende e tutte le operazioni anche di cucina e di coordinamento radio è stato scelto questo location perché il Codma si presta a delle attrezzature e l'amministrazione ce lo mette sempre a disposizione quindi per noi è una realtà molti materiali anche a livello nazionale sono stoccati qui a Fano quindi piuttosto che fare il training dall'altra parte che ha anche una spesa di trasporto materiali si è scelto per il secondo anno di farlo qui a Fano qui sono raggruppati 200 e passa volontari da tutta Italia probabilmente da tutta Italia suddivisi in 5 team il team comunicazioni radio unità di crisi cucina segreteria logistica importante che come avviene in questo momento alle nostre spalle ci sia un capo tenda un capo equip che coordini i volontari che in questo momento si stanno allenando al montaggio di una tenda sì perché in uno scenario di criticità in calamità naturali l'importante è che ci sia un coordinamento di tutte le squadre ma l'importante è che quelli che operano sullo scenario siano coordinati all'unisono per ottimizzare i tempi e soprattutto l'intervento alle popolazioni che in quel momento stanno subendo la calamità naturale la squadra che sta operando alle nostre spalle è una squadra mista ci sono persone provenienti da tutta Italia esattamente il formatore in questo momento il capo tenda è un toscano viene da da Masse esattamente da Tresana è un formatore che ha 2-3 volontari provenienti da ogni regione e sta spiegando loro il suo metodo naturalmente ci sarà anche quello che ha il metodo diverso perché lui è toscano magari quello calabreso siciliano che l'avrà fatto in un altro modo lo studiano insieme se l'idea che ha portato il volontario della Sicilia è migliore tutti possono metterla in pratica altrimenti ci tira avanti per la strada che il formatore avrà consigliato il mondo del volontariato di protezione civile sta evolvendo stiamo assolutamente siamo lontanissimi dagli angeli del fango cioè dal volontariato spontaneo che è la forma più nobile del cittadino italiano che in un momento di crisi si mette a disposizione il problema è che gli angeli del fango erano a Firenze 30 anni fa oggi la situazione è completamente cambiata la formazione deve essere il nostro master chiudiamo il nostro telegiornale tornando a parlare del calcio di Serie D in occasione della fase finale dei playoff che domenica vedranno scendere in campo l'Alma Juventus Fano e la Fermana alle ore 16 allo stadio comunale di Fano i tifosi e gli appassionati dell'Alma hanno lanciato l'iniziativa dal titolo coloriamo il mancini con il granata in sostanza tutti coloro che prenderanno parte alla gara dovranno vestirsi con un indumento granata ovvero lo stesso colore delle maglie dei giocatori dell'Alma un modo si legge in una nota per compattare tutto il segmento sportivo e sostenere la squadra per raggiungere la vittoria e con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale per informazione è tutto grazie per la vostra attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti